Ed insomma amici miei durante la nottata del Super Bowl è stato rilasciato il primo teaser trailer di quel che sarà Deadpool 3 ma il titolo che già per alcuni è risultato succosissimo è Deadpool e Wolverine che ammetto essere molto giusto perché almeno si dà lo stesso peso la stessa importanza ad entrambi i supereroi e si capisce quanto Wolverine sarà protagonista tanto quanto il mercenario chiacchierone bisogna anche ammettere che Deadpool 3 era uno dei trailer più attesi perché è proprio uno dei film che i fan non vedono l'ora di vedere già da tanti viene considerato il nuovo Spider-Man No Way Home perché al suo interno presumibilmente ci saranno tantissimi cameo molte partecipazioni speciali di personaggi non solo del vecchio universo Fox ma anche del Marvel Cinematic Universe perché con Deadpool 3 il nostro Wade Wilson farà il suo ingresso nell'MCU ma dopo aver visto questo breve teaser da due minuti e venti circa come sono rimasto perché sul web vedo già amici colleghi entusiasti molto felici spero di non deludervi nel dirvi che a me ha lasciato neutro voglio dire sto aspettando Deadpool 3 i primi due film mi sono piaciuti molto soprattutto il primo capitolo Sean Levy alla regia mi fa ben sperare soprattutto il suo sodalizio con Ryan Reynolds continua e potrebbe essere vincente pure stavolta però sarà perché l'MCU nell'ultimo periodo mi sta deludendo sarà che è troppo tempo che non provo più quelle emozioni che il Marvel Cinematic Universe con cui sono cresciuto mi faceva provare io guardando Deadpool 3 o perlomeno Deadpool e Wolverine ho pensato per provare quel piacere di una volta devo per forza immaginare un film dove comparirà chiunque quindi ormai è solo il film evento a dover fare questo effetto e sono un po' rammaricato perché il trailer è assolutamente dignitoso e assolutamente carino e può anche darsi che via via che passeranno i mesi il fomento mi salirà però ecco ormai dopo The Marvels dopo Ant-Man and the Wasp Quantumania dopo She-Hulk dopo Moon Knight dopo Miss Marvel cioè effettivamente con il Marvel Cinematic Universe non so più dove sbattere la testa tanti hanno detestato Secret Invasion che invece io ho trovato più che sufficiente con i suoi difetti anche What If la seconda stagione l'ho trovata carina alla fine Loki 2 l'ho salvata ma è sempre un accontentarsi cioè se io ripenso ai primi film dell'MCU se io ripenso al periodo d'oro del Marvel Cinematic Universe se io penso a delle pellicole che hanno saputo folgorarmi ultimamente è come se dicessi sempre ok Paolo dai salvalo questo nuovo prodotto ok dai sì guardabile carino però non ho più voglia e se l'alternativa al carino deve essere per forza il film evento con mille personaggi dentro quel giochino che inizialmente poteva essere assolutamente sorprendente diventa ripetitivo perché fossero stati degni di nota anche gli ultimi prodotti del Marvel Cinematic Universe ci poteva essere la scheggia impazzita Deadpool 3 che giocando con gli stilemi di No Way Home avrebbe potuto farmi dire dai questa volta si butta di fuori ma ormai sembra che bisogna aspettare solo questo poi il trailer ci mostra un Deadpool che sembrerebbe essersi ritirato a vita privata che è felice con tutta la famiglia addirittura rivediamo Piro vi ricordate quello dei primi X-Men della Fox fino a che verrà contattato proprio gli busseranno a casa chi la TVA la Time Variance Authority perché il Marvel Cinematic Universe è sull'orlo del collasso c'è un problema e lui dovrà risolvere questi enigmi non saprei cosa dire relativi a questo universo in fase di distruzione del Marvel Cinematic Universe quindi dovrà fare dei viaggi multiversali mi è piaciuta la scena con questo deserto e il logo della 20th Century Fox mezzo distrutto e logoro quindi c'è sempre questa componente metacinematografica molto marcata addirittura ci sono delle immagini proprio dei personaggi del Marvel Cinematic Universe quindi si punta sul suo ingresso all'interno di questo universo con tante battute con tante frecciatine del resto Deadpool già in casa Fox era l'outsider era quello che faceva parte tra virgolette della saga dei mutanti Fox ma che al contempo prendeva in giro tutti loro ma che al contempo sapeva di essere in un film a differenza di tutti gli altri storici membri degli X-Men e questa volta sarà senz'altro la stessa cosa cioè oltre a prendere in giro i mutanti della X-Fox prenderà in giro quelli del Marvel Cinematic Universe solo che quando noi vedevamo i primi due Deadpool non c'erano cose che andavano a collegarsi con i film sui mutanti lui era questa scheggia impazzita questo tornado a parte che arrivava creava caos sapeva di essere in un prodotto che andava a parodizzare quel che noi avevamo visto nella saga principale ma per dirvi a parte qualche cameo degli storici X-Men non c'erano trame che andavano a impattare fortemente con i film visti già nel trailer di Deadpool e Wolverine mettere come protagonista Wolverine già questo lo pensavo da tanto tempo l'andare a con la TVA muoversi nell'MCU mi fa un attimo avere dei dubbi perché ricordiamoci che Deadpool sa di essere in un film gli altri personaggi no quanto questa cosa sarà influente e quanto invece risulterà solo parodistica perché non vorrei ritrovarmi di fronte ad una cosa simile She-Hulk vi ricordate perché ok magari quella cosa l'abbiamo vista nella serie poi se rivedessimo She-Hulk in un altro prodotto non le farebbero mai far riferimento a quel che è accaduto nella sua serie però io qualche domanda a riguardo me la faccio non so voi poi il trailer è ben confezionato resta da capire se veramente la butteranno sul volgare sul violento c'è un fuck all'interno del teaser si vede un po di sangue poi non chiedetemi ma hai visto Paolo quel personaggio io non leggo i fumetti quindi non ho riconosciuto nessuno se non i personaggi visti all'interno dell'universo Fox dell'universo cinematografico quindi non saprei dirvi chi è quello lì appoggiato al muro chi è quello lì che si gratta l'orecchio ecco però sembra ben confezionato sembra carino arrivato alla fine anche con Wolverine che arriva davanti a lui e tira fuori gli artigli non sono riuscito a restare folgorato vedo persone wow mamma mia ecco io non saprei poi mi auguro con tutto il cuore che il fomento mi salga di arrivare alla fine di luglio e di avere quel desiderio di andare in sala come avevo per No Way Home che al netto di tutti i suoi difetti lo sapete mi ha emozionato tantissimo e mi ha colpito editorialmente parlando produttivamente parlando aveva tante frecce al suo arco se fosse come i primi due Deadpool a me basterebbe poi quest'anno hanno la l'opportunità hanno la voglia di alzare così l'asticella vediamo perché potrebbe essere la più grande genialata di sempre ma al contempo anche la più grande occasione sprecata cercando di replicare il successo di No Way Home quindi stiamo un attimo a vedere voi cosa ne pensate siete rimasti siete rimasti folgorati oppure come me più neutri spero che da qui a luglio anche serialmente parlando in casa MCU ci possa essere maggiore cura per i propri prodotti e progetti va da sé che nel trailer hanno mostrato dei personaggi che poi nel film vedremo per poco io penso alla famiglia di Deadpool dopo il compleanno di Wade Wilson scomparirà vediamo come si giocherà con questo viaggio multiversale la time variance authority continua a esistere anche dopo gli eventi di Loki 2 ma saranno tenuti in considerazione gli eventi di Loki 2 è per questo che dico se tu prendi Deadpool e lo colleghi in maniera proprio forte agli eventi del MCU beh non resterebbe più quel personaggio al di sopra di tutto e di tutti che prende in giro ma sarebbe un personaggio influente per il per il macro universo per per tirare le fila del macro universo e questa cosa non so quanto mi convincerebbe poi magari tutto sarà trattato benissimo però se penso a un Deadpool che sa di essere in un film assieme ad un che ne so qualsiasi personaggio MCU che invece non conosce la non sa di essere all'interno di un progetto cinematografico era lo stesso dubbio che mi ponevo con She-Hulk vediamo poi magari tutto sarà gestito bene come nei due X-Men e la cosa passerà inosservata però lo continueremo a commentare Deadpool e Wolverine via via che usciranno nuovi teaser nuovi trailer nuove immagini nuove foto non mi convince più di tanto la locandina che è stata rilasciata con la con la collana no con il cuoricino da una parte Deadpool dall'altra parte Wolverine però devo dire che anche il 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 design di Deadpool anche più fumettoso un po più in stile MCU mi ha colpito quindi stiamo a vedere io sono neutro ribadisco il trailer mi è piaciuto ma anche dopo la delusione di Econo doveva tornare Wilson Fisk mamma mia e poi abbiamo visto ci vado un attimo con con cautela incontro al film speriamo di restare sorpreso e che a luglio possa dire wow meraviglioso perché ho bisogno di provare ancora quelle sensazioni con il mio MCU e se sono più critico è proprio perché so quel che l'MCU può darmi so quello che dal 2008 mi ha regalato e quindi non mi accontento più non ho più voglia di dire dai carino no un caro saluto ragazzi e fatemi sapere la vostra tanto poi ne riparliamo anche in live